I numeri lasciano la Puglia in fascia gialla, le previsioni però sono preoccupanti e per questo si starebbe valutando la possibilità di alcuni provvedimenti ad hoc per zone specifiche della nostra regione con il passaggio al cosiddetto arancione rinforzato. Per la terza settimana di fila, anche alla luce dell'RT, l'indice di trasmissione del contagio sotto la soglia dell'1, lo 0,93 per la precisione, la Puglia resta nella fascia di rischio medio-bassa. Anche il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva al 29%, quindi sotto di un punto percentuale rispetto alla soglia critica fissata dal Ministero della Salute e in area medica, il 35% rispetto al 40% previsto come soglia di rischio, raccontano di una situazione sotto controllo ma con una proiezione preoccupante. Lo dicono i numeri del contagio, in questa settimana il tasso di positività è stato sempre ben oltre il 10% e nelle giornate di giovedì e venerdì i nuovi casi sono stati superiori ai 1.400 ed il costante aumento dei ricoverati per Covid-19. Anche per questo si pensa a provvedimenti mirati per Bari e Taranto, ad esempio, dove con il nuovo parametro fissato dal DPCM che entra in vigore oggi, 250 contagi ogni 100.000 abitanti, le scuole saranno chiuse. In vista della ormai temuta terza ondata, si prova a fare in fretta per l'attivazione del nuovo ospedale Covid in Fiera del Levante. Pronto dal 16 gennaio, dovrebbe cominciare ad accogliere i pazienti dal prossimo 15 marzo. Intanto da lunedì si trarrà la conferenza di servizi per ottenere l'accreditamento provvisorio, poi da giovedì al via il confronto con i sindacati dei lavoratori della sanità, medici, infermieri e operatori sociosanitari. Mancando il personale per una struttura costata 20 milioni di euro e nella quale verranno attivati 122 posti letto, 14 dei quali di terapia intensiva, verrà trasferito quello del Policlinico di Bari.